Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul canale Ci lo so, sarete stupendo perché non state vedendo il solito sfondo la boia della bestia ladra che c'ho sempre dove mi riprendo dalla finestra con tutto lo sfondo dietro Spero che vi piaccia questo sfondo, è ancora in via di costruzione, devo aggiungerci delle cose cambiare un po' l'illuminazione, ma fatemi sapere, è importante nei commenti, se vi piace come inquadratura Oggi, ragazzi, essendo martedì, lo sapete già, andiamo a vedere un nuovo tutorial Scusate se non stanno uscendo proprio sempre due video a settimana, ma uno cerco di portarvelo sempre Sono in sessione d'esame, comunque sia, cercherò di riprendere il ritmo con l'inizio di settembre Ci tengo come sempre, ragazzi, a salutare le prime persone che mi hanno seguito su Instagram Se vuoi essere salutato, mi raccomando, seguimi appena stai vedendo questo video, vola sul profilo Che sono MonicaEUG2020, IAMCC06, GianniFuscello04 e KingTotommy8 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Instagram Tra l'altro, raga, proprio in questi giorni sto iniziando a postare i reel, i miei primi reel su Instagram che è la nuova funzione, quindi passate su Instagram e iniziatemi a seguire Guardate sta lampada, ci perdo le ore ogni volta Detto ciò, no, tu devi, vedi? Devi stare rossa, demonio bestia Detto ciò, ragazzi, non voglio farvi perdere ulteriore tempo Vi ricordo che è sempre attiva come sempre E ho già detto due volte, sempre l'offerta con tutti e tre i miei effetti ve la lascio sotto in descrizione Lasciate, sbattete un like al video se volete altri tutorial simili Anzi, fatemi sapere voi nei commenti che gioco vorreste vedere la prossima volta Perché è proprio con i vostri commenti che mi date l'ispirazione per portare sempre giochi nuovi e diversi E niente, ragazzi, vi lascio ora prima la performance come sempre e poi al tutorial del gioco di magia Ciao, ragazzi Ciao, ragazzi, comose Vabbè, dai, ciao Eccoci qua, ragazzi, all'esecuzione dell'effetto che dopo vi insegno Innanzitutto vi dico che questo è un metodo, anzi più che altro il metodo che viene utilizzato Può essere anche un metodo definibile antimago Perché se un mago non lo conosce, fidatevi che secondo me avrete questa reazione da diversi maghi Riuscirete sicuramente a fregarlo Allora, innanzitutto, raga, vi spiego come funziona questo gioco di magia Si sceglie, si seleziona una carta qualunque dal mazzo, davvero qualunque E la cosa particolare è che il mazzo può essere anche mescolato Quindi non ci interessa niente dell'ordine Può essere mescolato, ovviamente, e tagliato quante volte si vuole Ovviamente io mi giro Lo spettatore guarderà la carta In questo caso, questa qua, io sono girato, si capisce anche dalla voce E poi prende la carta e la inserisce in un punto qualunque del mazzo Guardate, faccio così, così vedete che la carta può essere presa Messa in un punto qualunque E dopodiché il mazzo può essere ancora una volta tagliato E ancora una volta così, mescolato Perfetto Fatto questo, il mago prende le carte in mano E dirà allo spettatore che a sensazione cercherà di ritrovare la sua carta Sì, leggendogli nella mente, scorrendo le carte Una ad una, riuscirà a ritrovare la sua carta In questa maniera, gli dirà di stop nella tua mente quando vedrai la tua carta Quindi di stop nella tua mente quando vedrai la tua carta E il mago, così, continuerà a scorrere le carte Fino a quando, a sensazione, quando sentirà appunto lo stop nella mente dello spettatore Aspetta Hai detto stop, vero? Sì E direte esatto Perché questa è proprio la carta che tu hai preso Fra un mazzo di carte Tutte quante carte diverse E tutte quante carte mescolate Ok ragazzi, veniamo ora al tutorial di questo gioco Intanto il mazzo che ho utilizzato sono queste qua, le Red Knights Secondo me sono veramente, veramente una bomba Guardate che figo l'interno, tutto dorato Questo qua è il mazzo, come avete visto nella performance Come sempre se vi interessa lo trovate da tutto magia E se sbattete il mio codice avrete anche il 10% di sconto Ma veniamo ora al tutorial di questo gioco Questo gioco si basa su un principio che è molto, molto semplice Infatti questo gioco è facilissimo da eseguire Ma allo stesso tempo, come vi ho detto, potrebbe essere addirittura di inganno Per alcuni maghi che non conoscono il principio Perché si basa sì sul principio One Way Che come sapete in cosa consiste Ci sono delle carte che presentano delle differenze a livello del dorso Cioè da una parte è diverso che visto dall'altra E quindi la carta è facilmente riconoscibile In questo caso però non sfrutteremo il principio One Way del dorso Bensì quello delle facce Cosa ancora più geniale perché può essere fatta per ogni mazzo di carte Nonostante infatti il One Way sul dorso non sia presente in tutti quanti i mazzi di carte Il One Way delle facce sì Ora vi spiego come fare Se vedete quando andate a prendere delle carte, per esempio di faccia Vedete che ciascuna carta in realtà ha un verso Per esempio questa va vista verso l'alto Cioè vista verso l'alto questo cuore, vedete, è dritto Quindi la classificheremo come One Way Questa qua invece è una carta normale Perché se io la vedo da qua o la vedo da qua è completamente identica Vedete invece che il 9 di cuori qui ha il cuore verso l'alto E se io lo giro il cuore è verso il basso Quindi è One Way Stessa cosa diceci per quest'asso di pic Vedete, visto da questa parte è completamente differente che visto da quest'altra Perché risulta essere One Way Quindi la mettiamo sempre vista verso l'alto Stessa cosa anche per il 7 di quadri Vedete il quadro, questo qua qua in alto, è verso l'alto Il seme, scusate, non il quadro E quindi lo metteremo fra le One Way Stessa cosa per il 5 di cuori Vedete che questo cuore è visibile verso l'alto Se noi lo giriamo così la carta è completamente diversa Anche questa si aggiungerà l'elenco delle carte One Way E così via Vedete anche il 3 di picche Il 3 di quadro invece è identico Visto sia da una parte che dall'altra Dovremmo fare questa classificazione delle carte A seconda che siano One Way o no 5 di fiori ovviamente One Way Questa no perché è uguale Questa è One Way per esempio perché qui i due cuori sono verso l'alto Se no da qua solamente uno Quindi io la metto così, da vedere sempre verso l'alto E continuo a fare questa classificazione appunto delle carte A seconda che siano uguali o meno se ruotate Ora velocizzerò questa parte Se volete poi vi mettete il video a rallenty Per vedere quali sono tutte le carte One Way Ma ci arrivate anche voi È molto semplice come avete visto Ecco quelle che potrebbero risultarvi un pochino più difficili Sono queste per esempio Questa qua è One Way da vedere verso l'alto così Perché vedete qui ci sono più picche verso l'alto Che da quest'altra parte Dove invece ce ne sono di più verso il basso Questa invece verso l'alto Verso il basso è identica Ok ragazzi Quindi ci ritroveremo a questo punto in questa situazione Qui avremo un mazzetto di carte Che viste sia dall'alto che dal basso Sono identiche Quindi non cambia assolutamente nulla Mentre qua ci ritroveremo con un mazzetto di carte Dove ci sono tutte carte One Way In questo caso ordinate dall'alto verso il basso Cioè da guardare dall'alto verso il basso Nel mio caso Quando dico dall'alto verso il basso Intendo che ci sono più carte appunto Che sono visibili da questa posizione Ovviamente voi potete anche ordinarle Mettendole nel mazzo da quest'altra parte L'importante tanto è che tutte quante Siano in un verso Tanto alla fine raga Sono tutte messe in ordine In modo tale che se voi le vedete in questo modo Sono tutte quante riconoscibili Che sono appunto dallo stesso verso Così come se le guardate da questo verso Sono tutte quante riconoscibili Che sono da questo verso Cioè verso il basso Ci ritroveremo quindi con questi due mazzetti Quello che dobbiamo fare è Prendere più o meno questo mazzetto E inserirlo circa al centro dell'altro mazzo di carte In modo tale che la porzione di carte one way Sia esattamente al centro del mazzo A questo punto dovremo forzare Allo spettatore una delle carte presenti Al centro del mazzo di carte ovviamente Perché dovremo forzare una carta one way È molto semplice O dite allo spettatore Dimmi stop quando vuoi Scorrete più velocemente le carte in cima Poi rallentate nel centro Vi fate dire stop in una delle carte centrali Oppure per esempio dite Guarda prendine una quella che vuoi E gli porgete più che altro le carte centrali Lui sicuramente prenderà una di quelle Ad ogni modo se non volete rischiare nulla Prendete un break al centro del mazzo Col vostro mignolo Vi fate dire stop E comunque date una carta allo spettatore Che sarà sicuramente come vedete Una delle carte one way Una volta fatto questo Cioè che lo spettatore ha selezionato la carta La lasciate sulla cima del tavolino Ok? E gliela fate vedere In questo modo gli dite ricordala Potete anche darla nelle mani Del vostro spettatore Però dovrete stare attenti Perché lo spettatore poi potrebbe ruotarla E quindi andare a modificare Appunto la direzione della carta Quindi in caso date la carta allo spettatore State attenti al fatto che la ruoti o meno Una volta che la carta è stata scelta L'unica cosa da fare è inserirla nel mazzo In direzione opposta alle altre In modo da renderla super riconoscibile Come possiamo fare questo? Molto molto semplice Quando diamo allo spettatore la carta O comunque la lasciamo sul tavolo Diciamo allo spettatore che andiamo a mescolare le carte In realtà potreste anche semplicemente ruotare il mazzo in questo modo Ma se fatela mescolate è un gesto più naturale E appunto le carte si gireranno in automatico Vi faccio vedere Perché voi prima le girerete così in orizzontale una volta Ok? Fate la vostra americana E poi una volta fatta l'americana Tornate, squadrate le carte E così le avete girate Non vi resterà quindi che inserire poi la carta scelta dallo spettatore In questa maniera all'interno del mazzo E sarà in direzione opposta a tutte le altre carte one way Riassunto video One way One way Ovviamente vi ho detto di stare attenti Perché se lo spettatore avesse girato questa carta Non ci sarebbe stato bisogno che voi giravate tutto quanto il mazzo di carte Presupponiamo quindi che lo spettatore non giri la sua carta Noi abbiamo girato il mazzo Inseriremo la sua carta che è il 6 di picchi all'interno del mazzo E così sarà l'unica in direzione opposta rispetto alle altre Quindi super riconoscibile Una volta inserita nel mazzo Il mazzo può essere anche tagliato State attenti semplicemente a non girare ancora una volta le carte O comunque a non girare una porzione sì e l'altra no Potete anche per esempio mescolare l'americana Perché mantiene l'intera direzione del mazzo di carte identica Dopodiché non vi rimane che scorrere le carte In questo modo E vedete in questo caso vediamo già che le carte Che noi abbiamo direzionato one way Sono da guardare verso l'alto Perché il cuore è verso l'alto A meno che non abbiate la sfiga immensa Che la carta scelta dallo spettatore sia proprio la prima In questo caso il cuore Scorriamo e continuiamo a scorrere le carte Vediamo invece che anche questo 7 di fiori è da guardare verso l'alto Quindi che cosa capiamo? Che la prima carta che sarà girata verso il basso Sarà quella dello spettatore Scorreremo infatti tutte quante le carte Dicendo allo spettatore di pensare Stop nella sua mente Vedete arriviamo al 6 di picche E al contrario di queste carte che sono da vedere verso l'alto Cioè con la maggioranza dei semi verso l'alto Questa qui ha la maggioranza dei semi verso il basso Il 6 di picche E quindi in un attimo diremo Ah aspetta nella tua mente mi hai detto stop ora vero? Perché il 6 di picche è proprio la carta che hai selezionato Se noi avessimo continuato a scorrere le carte Vedete che la porzione one way sarebbe stata sempre verso l'alto Cioè con la totalità dei semi Anzi la maggioranza dei semi verso l'alto E così via per tutte quante le altre carte del mazzo Vedete per esempio qui 4 cuori verso l'alto Perfetto ragazzi Questo era il gioco di magia di oggi Come sempre io ve l'ho spiegato in maniera molto meccanica Come avete visto ho messo una presentazione molto meccanica Che spiega solamente quello che vado a fare Quindi imparatevi questo principio che può essere Come avete visto un ottimo principio anche per fare dei giochi antimago E utilizzatelo e sfruttatelo nel migliore dei modi Perfetto ragazzi Il gioco di magia di oggi è finito Spero che l'abbiate imparato Come avete visto è un gioco anche antimago Perché secondo me molti maghi Magari quelli che non conoscono appunto questa tecnica O questa particolarità delle carte come avete visto Non riusciranno a capirlo Quindi fatemi sapere se avete stupito i vostri amici Mi raccomando seguitemi su Instagram Sbattete un like a questo video E bestia ladra sempre Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.